Il Presidente Amoumase e la sua Corte di Corroia dei Venuti non aveva più la fiducia del popolo palestinese, non poteva più sostenere e difendere la causa palestinese. Questa è la ragione della vittoria di Amoumase. La gente era stanca della corruzione e dei tragimenti del Fatale, cioè del partito che aveva governato fino a quel momento. Dal nostro gusto di vista, per noi occidentali, per noi amici del palestino, riconoscere il diritto all'autodeterminazione significa accettare l'autodeterminazione e impedire che Israele e i suoi alleati occidentali possano influenzare con alcuna forma di colonialismo. Persino quello che nelle nostre piazza è spesso scritta palestina è libera palestina rossa. Ai palestinesi non importa che sia rossa, non importa che sia libera. E non siamo noi che dobbiamo sapere il colore che debba governare. Sono i palestinesi, questa è l'autodeterminazione e questo è l'aspetto dei palestini. questi palestinesi simply want to survive. They're not interested in what we think. But the situation in Palestine tried loconte principali. Economiche restriccions were started, repressioni, targeted to killings. Up to, il vero embargo al gas di Strip. la vita di un milione e mezzo di persone in una galera davvero a cielo aperto. Questa scelta criminale, di barbara e l'estate ebraico, non solo la sua inesistente volontaria del Stato, non solo che l'estate non vuole la paese, ma anche che il Hamas è l'unico obiettivo per il progetto dell'esimitazione dei palestini. For years, the theft of the palestinian land, the poverty, the lack of health care, the media campaign, the war, the humiliation, the targeted massacres, the killings were systematically the destruction of destroying and deputating these people besides the people of Israel. Nel parlamento israeliano, quotidianamente si parla di capitolazione, di ogni cammino e deportazione tutti i giorni. ogni giorno si chiedono queste parole, ogni giorno si discute. Quindi queste parole non scambalizano a nessuno, il nome del signore di questo è l'indicolazione dei comuni. Questo processo non è finito, non è un processo si è in no hurry. In fact, they were first too diluted, thought about slowly, so that it can appear as almost non-perceivable. And of course, it's not perceivable, perché the media did not tell us anything about that. So, in no hurry. When the media said that they have to wait another two years before they think that it's a good, or before anybody behind to discuss again about this state, this means that the people are dying. They've been waiting for 60 years to die. So, it's more or less, it's different. There's no words for all this. Israel is disintegrating the possibility of rights for the problem. And this is why the movement, for the whole court, decided to sustain the rebels. The only political force that is credible is that the e lo abbiamo detto loro nei incontri avvenuti con i suoi leader nei mesi scorsi. Includo Michele, Michele, il politico leader di Roma, che ci ha consigliato di adottare la non-violenza attiva contro la nostra potenza della società. E anche perché sappiamo che la comunità internazionale non si tratta di tutti i suoi metodi. è che il vinto non è quello che sono giusto, ma quello che hanno la più abitudine. E l'Israele ha molti abitudini. E credo che l'idea di due Stati per due persone è solo un slogan di oggi, un slogan pronunciato da hypocrites, hypocritiche politici, che fanno i nostri occhi con i sottotitoli. E, of course, as the Sionistic cause, to suffocate the Palestinian hopes, first we termine Netanyahu laid down the conditions for a Palestinian state. If you have to accept Israel as a Jewish state they will need to be totally debilitarized. e che la questione dei rifugiati deve essere risolta da qualcuno di un paese. Non c'è alcuna soluzione, 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 unica soluzione che può corrispondere alle decine di mezzanze di giustizia del popolo palestino. La mia propria di tre, armi cristiani, in cui i quali quelli che sono disposti e i loro discendenti possano tornare a vivere nel rispetto di loro. C'è dove tutti i suoi cittadini, tutti i suoi cittadini, tutti i suoi cittadini possono vivere con pari diritti, possono sussuire a pieno delle risorse naturali e delle vie di comunicazione, come da trabacca a testa e di internazionale. E prima di dare la parola a Giovo Gioccarini di Sinesca Critica vorrei ringraziare tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Buonasera, io prendo la parola al posto di Diana Carminati di Paracostumiliato che dovrebbe essere qui, Diana tra l'altro. E' in viaggio a Belbergarda, quindi non può essere così. Ho apprezzato molto questo documentario bello, bello e terribile, tutte le cose che sono vere da un tempo. Non pretendo di fare un intervento specifico in quanto non ho mai avuto una presenza diretta a Gaza o appunto nei territori palestinesi. Vorrei fare solo una piccola osservazione di politica generale. Cioè, abbiamo visto in questi ultimi giorni come accettare una politica impostata solo su un presunto realismo, come il fatto del italiano, che rifiuta con il genio. Grazie a tutti.